Tutto ciò non è una fortuna né caso. Attraverso Pietro Ubaldi, Ascensioni Umane, la funzione è biologicamente aperta a tutti, ma è dalla vita riservata solo al più adatto, che viene lasciato in funzione solo fino a quando egli la adempia e poi è liquidato. Ne risulta un va e vieni di uomini, un continuo flusso e riflusso, una catena di lotte collaudatrici, di crolli spaventosi e di ascese incredibili. Tutto ciò non è una fortuna né caso, è funzione, è la logica della vita. Commento Se si vuole convincere una persona che non è intimamente pronta, ad accettare la reincarnazione, si ha l'impressione di far galleggiare una pietra.